giovedì ed ecco la nostra rubrica che parla di relazioni tossiche cercando di coinvolgere nella nostra scuola tutti coloro che si trovano a gestire relazioni tossiche ormai sono tutte tossiche le relazioni proprio perché la cultura moderna la nostra società non insegna più ai giovani a come gestire il rapporto sia con l'altro sesso ma soprattutto il rapporto con la vita e col futuro ma anche proprio una cultura del futuro una cultura dell'uomo proiettato verso il futuro l'uomo una sola strada da percorrere non è onnisciente e deve fondare la sua vita sulla non garanzia di qualunque suo progetto di qualunque suo desiderio di qualunque suo istante della vita quindi la pietra miliare su cui costruire la vita di ognuno di noi è la non garanzia dato che non siamo niscianti ora che vi ho fatto questo preambolo in modo che tutte le volte possiate ricordarvi di questo preambolo su che cosa costruire dove fondare la nostra vita tutti noi la vogliamo fondare su una roccia ferma da qualche parte alcuni sulla roccia delle emozioni di sentirsi gasati e poi partire altri su molti soldi su delle piattaforme precise per saltare per fare tutti vogliono costruirsi un ponte per fare un salto verso il futuro ma un ponte sicuro però e tutti tentano a costruirsi un ponte per fare un salto verso il futuro la cosa particolare è che più ti costruisci un ponte più lo vuoi sicuro da cui fare fare un salto sicuro che ti fa andare dall'altra parte ti fa atterrare in modo sicuro dall'altra parte e più andiamo a finire in mano a uno psicoterapeuta o in mano a uno psichiatra perché scateniamo un inferno emotivo ed ecco questa rubrica il mio dottore ancora una volta mi presenta una perla da questo esemplare c'è una ragazza di 22 anni tre mesi fa circa sono stata lasciata dal mio ragazzo dopo quasi due anni di relazione attenzione ecco il ponte verso il futuro una volta era che i maschi e le femmine si coinvolgevano venevano presi dal piacere dalla spinta del piacere sessuale e dato che non c'erano anticongestionali nel giro di sei mesi tre mesi quattro mesi qualche volta al primo mese e si ritrovavano ad essere genitori ora no e questo dopo due anni non è ancora mamma e l'altro non è ancora babbo e dopo due anni le cose vanno in crisi quello che ho potuto notare in 40 anni che anche coppie bene assortite non durano più di tre anni e se qualcuna ne dura di più bisognerebbe andare a guardar dentro spesso e volentieri quelle che durano di più sono le coppie di persone che temono seriamente di vivere e che quindi temono di fare le scelte e pur litigando da morire pur standoci male nelle situazioni litigano litigano ma poi temono sia le donne che gli uomini temono di lasciare il nido e volare non sanno affrontare la loro vita costruendola su quell'unica piattaforma su quell'unica pietra che tocca agli uomini della non garanzia assoluta e cosa dice questa ragazza sono sono stata lasciata dal mio ragazzo dopo quasi due anni di relazione premetto che è stata la prima storia importante per entrambi il momento in cui ci siamo messi insieme lui stava uscendo da un periodo di depressione attenzione depressione vuol dire essere tristi quando uno è triste perché è triste che c'è una buona ragione perché uno è triste vuole una cosa a cui è dato importanza la vuole in tutti i modi ma la nostra mente volendo o nolente lo sa che il futuro è incerto e sotto troppa importanza a qualcosa la voglio in tutti i modi dopo un po e la voglio permanentemente mi ritrovo col fatto che la posso perdere e perdere una cosa importante che mi rende felice posso essere contento è una malattia essere scontenti perché non posso avere permanentemente qualcosa che mi renderebbe felice io non me la prendo con le persone comuni io me la prendo con gli psicologi e psicoterapeuti e gli psichiatri cioè con la classe colta che dà ragione a chi pensa che dovrebbe avere qualcosa a cui è dato allora dovrebbe averlo permanentemente per essere felice se non ci riesce la classe colta che dovrebbe aiutare gli appiccicani etichette sei depresso cioè sei malato se non ci riusciresti che vuol dire per implicito sei malato ci riusci beh se tu hai una cosa a cui dà importanza sei molto motivato ci deve riuscire per forza se non ci riesci sei solo un malato ti manca mezza rotella no non ci manca nessuna rotella ci manca una grande rotella questa grande rotella manca soprattutto alla classe colta a coloro che debbono insegnare che hanno il dovere l'uomo non nasce imparato nasce con una grande capacità da prendere ma non nasce imparato quelli che hanno il dovere di insegnare le persone che fanno come questo ragazzo diventano tristi non sanno uscirne poi ne escono per puro caso e trovano una ragazza che in qualche modo colma il loro bisogno ma hanno solo messo una toppa un uova su un vestito vecchio e alla fine dato che non hanno capito come sono riusciti ad essere felici e hanno mantenuto la stessa filosofia di sempre desidero essere felice ho trovato una cosa la voglio rendere permanente o la mente si accorge che le cose possono mutare e più do valore a qualcosa di permanente e più temo più mi si scatena un inferno emotivo più stranamente questo ragazzo che è stato depresso lascia questa ragazza e la lascia nella disperazione la quale cerca in tutti i modi di poterci stare con lui e dice chiaramente secondo me le cose che aduce sono risolvibilissime sono addirittura futili motivi per lei e sono che cose che si potrebbero risolvere insieme mentre lui si allontana si è allontanato e ha voluto chiudere una delle cose che ha detto è la distanza questa ragazza dice la distanza mezz'ora di macchina la distanza l'altra cosa che ha detto che non è felice e che non vuole manca lasciarla c'è una certa contraddittorietà in tutto questo racconto è un ragazzo molto sensibile rimugina tanto chi rimugina tanto perché rimugino tanto qual è la ragione di rimuginio desidero stare sempre con questa ragazza e comincia a pensare se poi se qui se la e se mi lascia e se io non la voglio più una delle cose in 40 anni che ho visto che qualche ragazzo maschio ha lasciato la propria ragazza perché a un certo punto ha avuto dubbi sul suo affetto per questa ragazza e qualcuno adesso ti ha detto colai anni devo lasciare non l'amo abbastanza non posso stare con lei dato che non l'amo abbastanza se non l'amo abbastanza io sono cattivo non posso approfittare di lei che te ne importa che sei maschio che te ne importa no colai anni sarei cattivo non riuscirei a perdonarmi una cosa del genere attenzione sembra tutto perfetto sembra la cosa più bella del mondo ma questo ragazzo da dove parte se poi non c'erano gli anticoncezionali questo ragazzo era diventato padre questi discorsi non l'avrebbe proprio fatto perché avere un bambino piccolo e diventare padre è diverso da cercare una costanza di affetto e di considerazione di slancio che non ci può essere anche perché il piacere nasce dai sensi i sensi è toccare qualcosa e provare piacere ma se io tocco questo computer lo tengo cinque minuti questa mano ferma io non sento più nulla ma è possibile che non c'è nessuno tra gli psicoterapeuti gli psichiatri le persone colte che spesso che scrivono libri d'amore come alberoni ma ma le cavolate di questo tipo in quel libro non ci sono questi discorsi ci sono tutti discorsi del rinnovamento d'amore se noi facciamo così se facciamo colà ma il rinnovamento d'amore se io tocco sempre le stesse parte l'amore è basato sui sensi i sensi danno piacere i sensi si saturano ragazzi ma andiamo un po con questa cosa è molto un ragazzo molto sensibile rimugina tanto non c'erano problemi concreti stavamo benissimo insieme di questo ragazzo ma una se due settimane prima della rottura io l'ho cominciato a sentire freddo distante e ho tirato fuori il problema per capire a cosa fosse dovuto questa sensazione che io avevo soprattutto questa sensazione di sentirlo distante lui era molto confuso perciò perciò gli ho detto di prendersi del tempo per capire cosa stesse succedendo dopo due giorni mi ha lasciata è andata a stuzzicare un cane che dormiva se lo lasciava rimuginare inutilmente forse stava a rimuginare e lei se lo teneva animalino che rimuginava e se lo coccolava e è andata a disturbare un cane che dormiva rimugina rimugina ecco l'ha spinta a dover dire qual era la ragione di questo suo difetto che non era come dovrebbe essere attenzione ha trovato terreno buono questa ragazza perché lui già stava rimuginando sul fatto se sentiva o non sentiva infatti dopo due giorni l'ha lasciata e cosa dice con motivazioni a mio parere superabili insieme quali la paura del futuro ecco questa non è una motivazione tanto superabile capirci molto bene per quale ragione nasce il timore del futuro da dove nasce per poterla superare se no ci sia groviglia all'infinito la paura della distanza abitiamo a un'ora di distanza circa cioè questo è veramente un futile motivo e altre piccolezze che nella mia concezione erano superficiali dicendomi però di non volermi assolutamente perdere ecco noi troviamo un ruminante lo posso definire un fifone un pauroso il quale vuole lasciare per non nello stesso tempo non lo vuole perdere non vuole sentirsi cattivo e dice non ti voglio assolutamente perdere e di voler stare in contatto e che non avrebbe trovato mai più un'altra come me attenzione non te voglio perdere e penso di non trovare nessun'altra come te e allora perché non ci stai qual è il problema beh se penso di non trovare e ti voglio bene non ti voglio perdere qual è il problema il timore del futuro l'idealizzazione di volere un rapporto ideale permanentemente felice che non abbia mai uno screzzio ma la nostra mente purtroppo non è onnisciente la nostra mente quando pensa una cosa del genere va cercando garanzia se sia possibile o no fare entrare in questo paradiso e rimanerci per sempre appena pensa di rimanere per sempre in questo paradiso cominciano a scatenarsi gli inferni motivi e uno sta con un piede fuori della fossa ecco un altro dentro e allora vengono queste situazioni qui ci sono un po lasciate si sono ritrovati e ho chiesto ho chiesto un confronto a faccia a faccia circa una settimana fa durante l'uscita lo si è aperto dicendo di non essere felice di provare ancora sentimenti per me di stare male e odiarsi per quello che ha fatto ma di essere comunque convinti che la decisione di lasciarsi fosse la scelta giusta perché si sente ancora molto confuso e soprattutto da queste da queste paure attenzione non la vuole lasciare ma pensa che la decisione meglio è lasciarla perché è confuso la ragazza non lo lascia lui ci vuole lasciare perché troppo confuso come dire se io sono confuso questa ragazza non mi lascia io non sono meritevole quindi prima o poi mi lascerà e poi perché devo essere meritevole in amore ecco guardate cosa c'è dietro queste crisi ci sono delle filosofie di tipo scolastico una meritocrazia di tipo scolastico come se il rapporto d'amore fosse un rapporto scolastico se sono efficiente se sono bravo se non sono confuso se mi sento brillante allora sono degno d'amore ma non mi sento più brillante sono confuso penso che la scelta migliore sia lasciarsi anziché stare lì insieme la scelta migliore sarebbe sono brillante sarebbe di non abbandonare l'osso l'unico osso che potrebbe da cui posso trarre linfa no io voglio prima avere tutta la linfa essere meritevole presentarmi alla mia ragazza e la mia ragazza da professoressa mi mette 8 9 10 attenzione cosa si aspetta questo ragazzo per fortuna gli è capitato a lui sta cosa ma poteva capitare anche a lei di sentirsi nelle stesse condizioni di non essere meritevole dell'amore di non essere diciamo di non sentirsi più innamorata come prima e di lasciare un ragazzo perché non è come prima la nostra relazione non è come prima come se tutto dovesse rimanere stabile com'era il primo giorno così deve essere fino alla fine dei nostri giorni e per giunta usiamo l'amore e il piacere che la vita ci ha dato ma non per fare figli e per diventare coppia no ma per rimanere insieme ma la natura voleva che noi stassimo lì a fare figli e occuparci della specie ricordiamo di quello che dicevano gli antichi di eros dell'amore era un dio temuto dagli uomini e dagli dei perché perché la spinta erotica del piacere d'amore spinge gli uomini e le donne a rinunciare alla loro vita alla vita del loro corpo a favore della vita della specie ecco e fino a 50 anni fa l'amore era temuto ora è agognato vedete questi ragazzi hanno un ideale d'amore altissimo hanno un ideale della relazione di coppia ad altissimo livello di come dovrebbe essere e siccome non rientra in quel canone si sentono tristi e stanno lì a rimuginare non si può essere diciamo né gelosi in due né innamorati in due disinnamorati in due appena uno non è disinnamorato si allontana l'altro si ritrova ad avere un vuoto nel colmare questo vuoto sente quella spinta quella passione e si rinnova come quella dell'inizio ma quello che si sta dall'altro allontanando non sa che farsene di questa passione di questo rincorrere dell'altra o dell'altro che ha bisogno di colmare un bisogno che si è riformato l'altro è pieno questo è vuoto quello che vuoto ha passione quello che è pieno non ha più passione perché i sensi si sono saturati vediamo come finisce questa storia il mio dispiacere più grande e pensare che lui si sia arreso e qua a questi pensieri e non provi ad affrontarli rinunciando alla felicità dice ma come eravamo felici e lui si arrende alle paure e pensieri attenzione qual è il presupposto di questa ragazza è un presupposto di filosofia della relazione che comune ormai è patrimonio comune che con la volontà se ce la metto tutto se date che un bene volontà cerchiamo di mantenerlo di non doverci arrendere alle prime difficoltà soltanto che con un eccesso di volontà non riesci manca a dormire l'amore è qualcosa di molto importante per l'uomo chi si infila nella situazione d'amore e non conosce bene se stesso i propri limiti le proprie capacità le proprie risorse soprattutto è a critico cioè la sua funzione umana che sta a cavallo con la funzione animale mammifera se non conosce bene le caratteristiche di quest'orgone pensa che in fondo se una cosa è buona se ci mette volontà l'ottengo infatti questa ragazza è scomportata perché pensa che questo ragazzo non ci metta volontà e si arrende semplicemente no no che la signorina se mi sta ad ascoltare hai modo di ascoltare questo video no no era depresso era depresso per un eccesso di volontà e adesso perde un amore che non vuol perdere non volerlo perdere ci sta mettendo un eccesso di volontà per cui non senti più nulla non è in grado nemmeno di sentire e volendo sentire volendo sentire passione volendo sentire questa passione nel proprio corpo e come sentiamo questa passione noi maschi nel nostro corpo quando il nostro apparato genitale maschile si eccita e si gonfia se noi ci mettiamo volontà quell'attrezzo non si gonfia non alza la testa rimane lì e noi se lo sentiamo che rimane lì dato che ci abbiamo messo tutta la nostra volontà cosa pensiamo e pensiamo che non l'amiamo più che ci dobbiamo allontanare ci dispiace che facciamo un torto alla nostra compagna se non amandola non stiamo insieme ma come si fa a provare piacere all'infinito con la volontà non posso provare piacere con la volontà non possiamo creare uno stato d'animo adatto per saltare addosso una ragazza o per abbracciarla non possiamo non è possibile trovare uno stato adatto d'animo per abbracciare una con compassione ma purtroppo molti psicoterapeuti soprattutto molti della pnl che puntando alla motivazione vedendo che non ce la facevano a saltare il ponte da una parte all'altra del ponte beh che hanno pensato che non avevano lo stato d'animo adatto quindi bisogna lavorare prima sull'emozione prima di avere lo stato d'animo adatto cioè gasati per saltare allora si salta no più 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 do valore una persona più temo era depresso quindi perché era depresso perché per fare cercava uno stato d'animo adatto in una motivazione forte per muoversi per fare le cose uno che è depresso a differenza di me la mattina dice ma come mai mi sento così o perché mi sento così come farò ad andare a lavorare sentendomi in questo stato in cui non ho voglia di fare nulla io quando mi alzo posso non spero di fare nulla se effettivamente non faccio nulla non sto a dirmi come mai non ho voglia ma se la mattina mi alzo e non ho voglia ma debbo andare a lavorare dico che palle stamattina non voglio però devo fare un cacchio dai su su andiamo a lavorare dove arriviamo mettiamo punto perché posso dire che palle perché mi aspetto un oscillazione enorme di stati d'animo e che lo stato d'animo non c'è una piattaforma di stato d'animo buono e una piattaforma di stato d'animo cattivo da procurarmi o da aspettare che mi dia lo starter o l'incentivo a fare le cose e a sentirmi a posto cercare questa cosa per poter vivere significa cercare qualcosa che pietrifica la mia stessa vita e pietrifica tutto il mio sentire buonasera fra poco ricomincerà la scuola sulle relazioni tossiche 16 e 17 faremo un convegno sia con quelli della scuola sia con gli altri che ci vogliono conoscere nella mia casa è Castel di Cassio il 16 è sabato quindi come dire sabato quelli che vengono da lontano possono venire lo possiamo anche ospitare ma è la domenica che parleremo proprio del pensiero altro perché la mia modo di approcciare l'altro le relazioni è basato su un pensiero altro non è un pensiero comune di senso comune è un pensiero critico che prima ancora di descrivere come dovrebbe essere l'amore come dovremmo fare come dovremmo agire sto a pensare se quest'organo può o non può fare ciò che dovrebbe essere giusto e sacrosanto o ciò che potrebbe portarci alla vittoria o meno buon pomeriggio per iscrivervi e per chi vuol venire il 16 e il 17 settembre a Castel di Cassio gli do il mio numero di telefono e anche quello della Chiara Massanti il mio è 329 61 34 223 quello della Chiara Massanti è 338 70 56 680 buonasera